Gli ho provate tutti dottore, soffimici, antidepressivi, spiritismo, nanismo, dieta paleolitica, ma c'ho sempre questo senso, l'angoscia che mi parte da qua, anche un po' più sotto e più sopra, ma sostanzialmente qua. Mi aiuti dottore, mi aiuti la prego, mi aiuti, mi aiuti, mi aiuti dottore, mi aiuti, mi aiuti. Ci sono passato anch'io. Dottore, finché non l'ho incontrata? Ambra, che è una collega, un'amante, specialista di buon umore. Ambra! Ambra Iovinelli, dal 1909, specialisti del buon umore. Ambra Iovinelli, dal 1909. Grazie a tutti.